Molto buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Alessio ci parla di cose di cui probabilmente so già anche più di lui perché nell'angolo del mio garage da cui faccio delle riparazioni ho già messo le mani su quello di cui mi dice e allora benvenuti e vediamo se oggi vi insegno qualcosa di cui magari non sapevate ancora parliamo di un argomento caldo soprattutto se vi prende fuoco delle batterie e vediamo se sapete veramente tutto delle batterie o se qualcosa ve lo eravate perso ma prima di iniziare io mi chiamo Alessio questo è il mio canale youtube riciclo riparo e modifico mezzi elettrici tutti quelli che sono i veicoli elettrici lo faccio sia per aziende che per privati ho lavorato nel mio passato se andate a vedere sul canale per svariate aziende in svariate parti del mondo e adesso lavoro in un container se sei curioso e ti chiedi perché adesso sono in container e do spiegazioni beh guardati un giro nel canale così ti fai un po' di idee le batterie le troviamo nella maggior parte dei dispositivi elettronici quasi tutti quelli che sono wireless cioè comunque senza un cavo funzionano con una batteria però non tutte le batterie sono uguali e da qui la prima categoria chissà come mai chissà come mai le batterie non sono tutte uguali come mai la batteria di una sigaretta elettronica non può alimentare una bicicletta o come mai un solo blocco di pile magari per le sigarette elettroniche non possono accendere una macchina e come mai le batterie sono ricoperte di cartone queste qua giù se non mi sbaglio sono tipo di un aspirapolvere quelli che vanno a girare i robottini beh c'è un motivo per cui sono differente chissà come mai il motivo è molto semplice ogni batteria ha una sua caratteristica ha delle capacità ha delle dimensioni e delle prestazioni che può andare a fare ha anche una decadenza nel tempo perché infatti qua giù arriva un secondo scoop le batterie non sono infinite e a dirla tutta le batterie non vanno nemmeno a cicli di ricarica come in realtà ci vogliono far chiedere teoricamente sì quando si va ad acquistare un veicolo elettrico ci dicono questa batteria può durare fino a 500 cicli di ricarica sì ma come si conta un ciclo di ricarica da completamente scarica a completamente carica oppure se io la ricarico a metà ho fatto solo metà ciclo o il 49% del ciclo come si fa a misurare un ciclo? beh sfatiamo un attimino questo mito ci sono svariate tipologie di batterie anche lo stesso litio non ha le stesse caratteristiche ci sono gli ioni di litio, il polimeno di litio, il litio ferrofosfato insomma veramente tantissime tipologie di litio ad oggi in più ne stanno uscendo veramente molte molte altre ancora e allora come si fa a capire quanto dura una batteria? avete fatto caso al vostro telefonino il vostro telefonino ha una batteria a litio ebbene quelle batterie già dopo il primo anno iniziano a non dare più tanto tanto quanto prima se vi rendete conto il telefonino non dura più magari il primo giorno dura una giornata intera e a distanza di un anno magari inizia a non arrivarvi nemmeno a metà serata o magari a metà giornata lo dovete ricaricare di nuovo bene questo è perché la batteria è andata un pochettino a decadere c'è un modo per calcolare il decadimento della batteria e si chiama curva di scarico per capire che cos'è e come funziona una curva di scarico però ci vuole qualche conoscenza in più per cui partiamo un attimino dagli albori partiamo dall'inizio tutte le batterie hanno un determinato voltaggio questa parola voltaggio sarà importantissima per tutto quello che andremo a studiare dopo per cui in realtà sarà proprio il punto da cui partire una batteria al piombo ad esempio ha un voltaggio di 12 volts però al suo interno è costituita da più gruppi di celle anche questo anche se sembra un unico blocco se noi andiamo a prendere la batteria ad esempio di una batteria a litio bene vediamo che è un blocco unico da cui qua giù uscirà un determinato voltaggio in questo caso 36 volts tuttavia all'interno è composta da tante piccole celle ecco queste celle ognuna a sua volta un suo voltaggio in pratica all'interno di questa ci sono tantissime di queste celle qua giù e se noi andiamo a misurare al capo di questa di questa qua giù avremo 3,6 volts qua giù 36 perché ce ne sono 10 in serie ma tutte queste cose sono abbastanza semplici per cui iniziamo a tirare un po' avanti in realtà il voltaggio che noi conosciamo è una differenza di voltaggio che cambia in base alla composizione dell'elemento che io ho sotto mano per cui se tratto il nickel sarà un determinato voltaggio se tratto il litio sarà un altro determinato voltaggio e la stessa differenza tra litio ferrofosfato e litio ioni a sua volta avrà una sua piccola differenza proprio in base a quali catodi e anodi andrò ad utilizzare che si dice sempre che le batterie non vanno messe nell'acqua ma in realtà il paragone con l'acqua nell'elettricità è una cosa che ci sta proprio di lusso e allora se noi dobbiamo paragonare una batteria a qualcosa la potremmo paragonare a una bottiglia d'acqua o in questo caso a un filtro dell'acqua dove all'interno ci sono determinati composti in base a che composti mettiamo avrà un peso diverso o delle caratteristiche diverse ad esempio farà passare più pressione o meno pressione se ne mettiamo delle rocce un pochettino più grosse l'acqua riuscirà a passarci in mezzo se noi mettiamo tanta sabbiolina più sottile si compatterà e magari non riesce più a far passare l'acqua insomma ci sono svariate caratteristiche in base proprio a che tipo di caratteristiche di batteria andiamo a montare tutte le batterie hanno una particolarità hanno una capacità di mantenere una carica per cui vogliono una carica da mantenere ci avete mai fatto caso? se voi guidate la macchina la volta che la batteria vi rimane a secco la volta dopo non è che riparti tanto tanto bene e infatti finché stanno cariche finché voi girate con la macchina, col motorino la batteria viene utilizzata per farlo partire all'inizio dopodiché viene mantenuta in carica mentre invece la volta che la andate a scaricare del tutto voi perché avete lasciato le luci accese voi perché avete tenuto la macchina ferma un po' di mesi quando andate a ricaricare su non dura più tantissimissimo come prima se lo fate due o tre volte potete buttare via praticamente quella batteria in realtà si potrebbero riutilizzare ma fa più comodo dire che vanno buttate via ma le batterie al piombo non sono come le batterie al litio sono diverse, quella della bicicletta è diversa il ciclista dove l'ho comprato mi ha sempre detto di scaricarla fino a zero beh sì però se state guardando questo video volete accrescere la vostra conoscenza e non continuare a dire che qualcun altro vi ha dato un consiglio sbagliato per cui se volete accettare questo consiglio vi dico che tutte le batterie sono tutte uguali tutte vogliono una carica da mantenere non ci sono batterie che vogliono essere scariche perché non funzionano tanto tanto bene ora un'altra caratteristica delle batterie è che noi le possiamo mettere in serie o in parallelo e questo ci tornerà comodo ad esempio su queste batterie cioè sulle batterie per le biciclette o per i monopattini elettrici molto molto comode sapete perché? perché noi prenderemo una singola cella la andremo a moltiplicare ad esempio le mettiamo tutte in parallelo quindi colleghiamo tutti i poli rossi e tutti i poli neri tutti insieme tutti i poli positivi e tutti i poli negativi tutti insieme e in questa maniera scoppia no no in questa maniera aumentiamo la capacità totale di quella batteria come se noi prendiamo una cassa d'acqua la mettiamo rivolta tutta con i tappi all'insù se noi andiamo a rovesciare la cassa d'acqua esce molta molta più acqua rispetto a una singola bottiglia per cosa ci è utile questa cosa? beh per un'altra caratteristica delle batterie ovvero gli ampere e gli ampere ora aia questa cosa qua giù è molto molto difficile per cui seguitela in maniera abbastanza scrupulosa ancora una volta ve la semplifico in maniera molto molto spicciola le batterie hanno questa cosa gli ampere gli ampere in pratica se noi dovessimo fare un paragone sono come una scintilla per cui diciamo che gli ampere sono la capacità di fare una scintilla di questa batteria per cui più grosso io li metto il cavo più sarà la scintilla che sarà in grado di farmi questa batteria bene questa non ha molta molta corrente questa corrente quindi questi ampere sono la capacità di scintilla che può fare tuttavia ci sono quest'altro parametro gli ampere ora che in realtà sono il parametro un pochettino più importante nelle batterie ovvero quanto sono grosse se noi dovessimo fare un paragone è se è una bottiglia da mezzo litro da un litro e mezzo da due litri o se una cisterna da 50 litri non consumate l'acqua l'acqua serve a tutti bene ora io ve l'ho semplificata moltissimo perché in realtà la dimensione di questa scintilla dipende ovviamente anche dal voltaggio per cui anche mettere le batterie in serie possono cambiare la scintilla che c'è in realtà proprio perché abbiamo fatto un paragone sbagliato volutamente con una scintilla la scintilla in realtà se io dovessi andare a guardare è data proprio dal voltaggio ci avete mai fatto caso che un fulmine è molto molto più lungo rispetto alla scintilla di una batteria c'è un motivo anche il voltaggio che noi andiamo a dare farà sì che l'arco che riesce a fare di questa scintilla sarà maggiore o minore ma non andiamo a complicarci troppo la vita quindi se noi per paragone dicessimo che la corrente è la quantità di scintilla che riesce a passare da una batteria sempre a livello di paragone potremmo dire che se per un'ora riuscissimo a dargli questa stessa scintilla noi avremmo una scintilla ora quindi gli ampere ora andare a lavorare di serie e parallelo come abbiamo detto può agevolarci ad aumentare o diminuire queste scintille no questo non va proprio cavoli bene infatti andare a mettere più batterie in serie può farci aumentare l'arco di questa scintilla andare a mettere più batterie in parallelo può farci durare per più tempo questa scintilla e questo sarà tipo uno dei concetti fondamentali per cui funziona ogni veicolo elettrico e ogni dispositivo e ogni apparecchiatura ora le batterie c'è una particolarità soprattutto che si parla di la sua dimensione il suo rapporto rispetto a quello che sarà il rapporto di consumo infatti immaginiamo di avere un ascensore abbiamo fatto questo paragone mille volte e immaginiamo da un lato di avere i cavi che devono tirare l'ascensore e dall'altro l'ascensore bene un buon rapporto di sicurezza è se i cavi sono molto molto più grossi del peso che poi possono portare perché se io ho i cavi che possono resistere fino a 1000 kg e poi però sollevo 10 kg è molto probabile che questi cavi non si rovineranno e andranno avanti per un sacco di tempo mentre dall'altro lato se io ho i cavi per sollevare 20 kg e devo andare a sollevare 19 kg è più probabile che questi cavi si potrebbero andare a rompere per cui è meglio stare dietro parallelamente alle nostre batterie se noi abbiamo una batteria con una capacità di scarica quindi questi ampere di 400 ampere e una capacità di 400 ampere ora e noi le andiamo a mettere un assorbimento da 1 ampere è molto probabile che duri tanto non solo nel tempo ma anche che le sue prestazioni che dovrebbero andare a decadere nel tempo non saranno tanto percepite proprio perché le sue capacità più o meno sono molto 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 maggiori rispetto a quello che è l'assorbimento se invece io vado a prendere un assorbimento che è lì quindi una batteria da 500 ampere la sua capacità di scarica di 500 ampere però io li vado ad assorbire 490 ampere è molto probabile che questa batteria dopo molto poco non lavori più tanto bene e se pensate che questa cosa non vi riguardi in realtà questo problema è un problema che troviamo spessissimo in tantissime biciclette o batterie dei trapani o tutto quello che va praticamente a batteria proprio perché la capacità per cui viene disegnata una batteria anche se buona dato che il suo assorbimento è molto molto vicino a quelle che sono le sue capacità vi fanno durare la batteria molto poco 6 mesi o al massimo un anno allora perché le batterie di una macchina durano tanto? beh in realtà durano tanto se arrivano tanto arrivano a 8 anni, 10 anni ma vi posso assicurare che io ho una Benelli laggiù che è più di 10 anni e funziona ancora perché la sua batteria è fatta con delle Sony delle batterie super mega prestanti con un'altissima capacità di scarica circa 30 ampere a pila sono state messe 4 pile in parallelo quindi capite che è una potenza esorbitante 160 ampere di scarica tuttavia il motore ne assorbe 10 per cui 160 ampere su 10 anche se quella batteria ormai è vecchissima più di 10 anni continua a lavorare molto molto meglio di pile che invece erogano 5 ampere il primo anno e poi il secondo già non ce la fanno e allora come si fa a capire la durata di una batteria nel tempo e anche le caratteristiche se sono buone o no per quello che devo fare io da qui le nostre curve di scarico tutte le batterie tutte le batterie che noi andiamo a comprare dovrebbero avere queste curve di scarico o volgarmente a volte vengono chiamati datasheet ma in realtà il datasheet sono caratteristiche di quella batteria non la curva di scarico la curva di scarico è molto molto più importante saperla leggere ti cambia il modo di lavorare con le batterie diciamo che noi abbiamo una batteria che vado a rappresentare in questa bellissima maniera qua giù e che noi le andiamo a collegare un motore in base alla dimensione del nostro motore questa batteria si comporterà in una maniera diversa e noi ora andiamo a vedere in che modo diciamo che potremo rappresentare ogni batteria con un grafico che nella sua asse verticale ha il voltaggio un determinato voltaggio lasciamo stare i numeri in questo momento che più è carica la batteria più questo voltaggio aumenta può tornare come le tacchette e diciamo che maggiore è il voltaggio della batteria quindi più è carica la batteria e maggiore appunto è il suo punto in questa asta qua giù dopodiché nel punto zero abbiamo praticamente la batteria scarica e andiamo a raffigurare un altro asse orizzontale per quello che è il tempo quindi la corrente nel tempo diciamo che una batteria migliore tende a comportarsi così nella sua curva di scarico cioè a dare tutta la corrente nel voltaggio più alto possibile nel tempo per poi arrivare alla fine a zero quindi questa curva che è tendente verso l'asse zero però sempre più parallelo possibile questa è la batteria migliore mentre una batteria magari un pochettino meno buona potrebbe comportarsi così una batteria ancora meno buona potrebbe scendere subito di voltaggio per poi magari continuare nel tempo e arrivare ad essere parallela diciamo che tutte le batterie hanno un determinato valore per cui tendono a fare questo lavoro qua giù mentre più corrente gli viene data più tendono a fare quest'altro lavoro qua giù e più diventano vecchi più tenderanno a fare questo lavoro qua giù che è sbagliatissimo e noi non lo vogliamo non lo vogliamo anche perché noi dobbiamo immaginarci che a un certo punto qua giù in questa scala abbiamo il voltaggio su cui noi possiamo lavorare ad esempio il voltaggio delle nostre centraline magari abbiamo una centralina che sotto i 30 volts va a staccare la batteria e noi questi voltaggi qua giù è tutto ciò che è sopra i 30 volts bene quindi io tiro una retta immaginaria qua giù su questo 30 volts e tutto quello che è sopra io lo posso andare a utilizzare vedete tutto questo io lo posso andare a utilizzare tutto quello che è sotto io non lo posso andare a utilizzare quindi nel caso di questa terza batteria dove abbiamo fatto la curva che scendeva molto velocemente magari l'aria qua sotto continua a essere molto molto grossa ma io non la posso andare a utilizzare proprio perché la centralina mi staccherebbe per cui quello che posso utilizzare è solo questo pezzettino qua giù queste stesse curve di scarico vanno ovviamente fatte per svariate corrente e noi magari potremmo ottenere che il nostro voltaggio iniziale all'inizio tende a fare questo lavoro qua giù con un'ipotesi di un ampere di corrente magari con due ampere di corrente fa questo lavoro qua giù magari con cinque ampere di corrente fa questo lavoro qua giù e va sempre di più a scendere per poi insomma durare quello che può durare nel nostro tempo quindi queste sono le nostre curve di scarico praticamente degli arcobaleni ora magari voi potrete dire ma io non vado ad assorbire sempre questa corrente io magari all'inizio ne assorbo poca non ne assorbo tanta e poi insomma mi cambia un attimino quello che è il lavoro nel tempo e questo è verissimo noi ci dobbiamo immaginare che ad esempio la bicicletta nel partire va ad affrontare questa curva di scarico qua giù che magari è quella da 10 ampere per ipotesi quindi si comporta in questa maniera poi dopo li vado ad assorbire meno per cui è come se io da questo punto qua giù ripartissi il grafico di questo e quindi mi va a rifare un grafico così poi magari ho di nuovo una salita a questo punto bene allora ritorna di nuovo in questa maniera però in base proprio alle sue caratteristiche tenderà ad andare più giù o più su e dato che io ho un parametro che è quello di funzionamento sotto cui non vado a utilizzare assolutamente nulla bene potrò utilizzare solo la parte sopra per cui ad esempio qua giù la curva che io posso andare a utilizzare sarebbe soltanto questa qua giù beh a mia discolpa io l'avevo detto che non era semplicissimo o non l'avevo detto beh no non è semplicissimo ora l'ho detto sono andato ovviamente a semplificarvela al massimo non è proprio proprio così ma concedetemi dobbiamo cercare di far capire a tutti quanti questo linguaggio un pochettino complicato diciamo che quelle aree che io sono andato a disegnare quando ho fatto le curve di scarico corrispondono poi al vattaggio che è in grado di dare questa batteria ora queste curve di scarico sono importantissime perché ci danno un valore della nostra batteria che abbiamo sotto mano e per nostra fortuna per venirci incontro soprattutto alla vendita delle pile troviamo online moltissimi siti che ci vogliono vendere le pile che però ci insegnano a saper leggere le batterie e quindi ci danno tutta una serie di valori e di dati su queste batterie tuttavia bisogna andare a comprenderle perché ovviamente il sito ci vuole vendere la pila però io devo sapere che cosa sto comprando come mai la stessa batteria che magari mi costa 8 euro se la compro nuova se la compro refurbished o reclaimed mi va a costare 2 euro cosa sono queste parole a parte la traduzione il significato di questa parola straniera ma cosa significa veramente che questa batteria è reclaimed per capire questo capiamo che ogni singola pila che costituisce una batteria ha una qualunque valore quindi magari ha un valore di 2600 mAh ecco però per ipotesi mettiamo che 2600 mAh sono le caratteristiche che gli sono state attribuite diciamo però facendo una media vuol dire che prendendone un campione di 10, 100, 1000 pezzi hanno visto che non tutte erano da 2600 ma magari la media era sulle 2600 però magari ci sarà stata una pila che era 2620 una pila che era 2580 e più o meno è stato detto che sono da 2600 ora ovviamente in base a quanti campioni vengono presi quanti test vengono fatti abbiamo un valore più simile possibile a quello vero le pile refurbished vuol dire che vuoi per la capacità di scarica vuoi per la capacità massima vuoi per la durata nel tempo o per le curve di scarico non sono state all'altezza dei suoi simili vuol dire che su mille campioni che sono stati presi quelle singole pile lì erano quell'eccezione che quindi non confermava più quella regola questo vuol dire che se io vado ad acquistare una pila Sony o una pila Samsung magari di particolare prestigio che magari nuova mi va a costare 8-10 euro e la trovo reclaimed a 2 euro vuol dire che quella pila non ha le stesse caratteristiche delle sue simili per cui un sito serio dovrebbe fare dei nuovi test e darvi quelli che sono i nuovi valori di quella pila ad esempio qual è la sua capacità attuale magari non è più quella o quali sono le capacità di scarica massime ovvio se qualcuno le ha reclemate vuol dire che qualcuno ha detto che non erano all'altezza delle altre pile magari l'azienda che ha fatto i test ha detto questa non supera i test non le voglio beh ci dovrebbe essere un motivo ci dovrebbe essere il nuovo valore e il sito serio vi dovrebbe dare i nuovi valori però ovviamente conviene per vendere non mettere questi valori quindi bisogna essere noi essere consapevoli di cosa vuol dire fare la batteria costruirsi una batteria con una pila reclaimed in tutti i casi di tutte le batterie ma soprattutto in quelle con pila reclaimed o refurbished diciamo che dobbiamo stare particolarmente attenti quando andiamo a fare la nostra batteria in serie e soprattutto in parallelo e infatti molte moltissime batterie vanno a durare poco nel tempo dopo sei mesi si rovinano perché iniziano ad essere sbilanciate e magari qualche rivenditore qualche riparatore vi ha fatto questa supercazzola le ho dovute solo bilanciare o ancora peggio vi hanno detto che c'era da fare chissà cosa e poi li dovevano solo bilanciare che cosa vuol dire bilanciare le batterie diciamo che per ipotesi tutte queste batterie sono appunto da 2600 mAh ho preso un numero tanto per farvi capire ma quando le andiamo a testare magari ho preso un gruppo che ho messo in parallelo e un gruppettino erano se siamo fortunati più o meno tutti uguali quindi quella da 2580 si andrà a pareggiare con quella da 2620 e più o meno la nostra media sarà di 2600 mAh quindi 5200 mAh per la coppia di due singole pile ma se per ipotesi non siamo stati così tanto fortunati e quindi le nostre batterie abbiamo tutto un gruppo da 2580 e tutto un gruppo da 2700 beh si creerà uno sbilanciamento immaginiamo di dover rovesciare delle bottiglie d'acqua solo che una è da mezzo litro e una è da un litro e mezzo ovviamente quella da mezzo litro si svuoterà prima di quella da un litro e mezzo quindi tutto le pile maggiori sono da un lato e le pile minori sono dall'altro non solo ogni pila ha una piccola resistenza interna che è una cosa un po' complicata per cui in questo momento non ne parliamo ma diciamo che questa stessa scintilla ogni volta che attraversa una pila da un lato aumenta perché aumenta la sua dimensione a livello proprio di voltaggio e di corrente che li passa ma dall'altro si va a diminuire un pochettino proprio per la resistenza interna ora le batterie a litio soprattutto hanno una resistenza interna talmente bassa che solitamente questo fenomeno non è molto molto percepito ma alla lunga l'utilizzo di tutti i giorni sul nostro veicolo quando noi andiamo a collegare la batteria andiamo a chiudere un circuito per cui la corrente passa da un capo attraversa tutte le pile e esce dall'altro lato e diciamo che alcune pile sono un pochettino più soggette a rovinarsi rispetto altre che invece prendono tutta la corrente dell'altra ecco perché solitamente le batterie dal lato negativo o comunque sia le prime pile sono quelle che si vanno a rovinare di più rispetto alle ultime a proteggerci da tutte queste brutte e cattive batterie abbiamo un BMS che sta appunto a significare Battery Management System cioè sistema di gestione della batteria mi raccomando il BMS e non la BMS o ancora peggio il BSM queste queste schedine dovrebbero collegarsi a tutte le pile di tutta la batteria e vanno a controllare che tutte le pile siano più o meno uguali e che quindi il voltaggio di ogni gruppo di pila sia più o meno uguale se uno muore la batteria in automatico viene fermata vuoi per evitare le esplosioni ma anche per salvaguardare tutte le altre pile che ovviamente non vanno a esplodere ma oltre a salvaguardarci dalle esplosioni questo giro in giro qua giù cerca in alcuni casi anche di bilanciare ovvero ha delle piccole resistenze che vanno a scaricare le pile più cariche per cercare di portarle tutte allo stesso livello più BMS più buoni hanno più voltaggi di bilanciamento BMS meno buoni hanno soltanto un voltaggio di bilanciamento ovvero quando la batteria è carica quindi tenerla più a lungo collegata in realtà non li fa malissimo perché se il BMS è buono inizia la fase di bilanciamento e quindi a equilibrare tutte le celle quindi però da qui la domanda se io avessi due batterie e per ipotesi le volessi collegare in parallelo come faccio a collegarle in parallelo si possono collegare aumenterei la capacità o è meglio collegare queste pile a queste pile anche se queste pile sono differenti per curve di scarico per capacità per tutte le caratteristiche che abbiamo detto prima vuoi per resistenza interna per anno per durata per tutto quello che c'è qual è il modo migliore per collegare queste due batterie ovviamente dare una risposta a questa domanda non è proprio proprio semplicissimo bisogna sapere un sacco di fattori primo tra tutti quanti anni hanno quante sono le capacità di scarica e tutto cioè proprio queste caratteristiche sono quelle che le identificano e che ci fanno consigliare in un caso di adoperarsi in un modo e in un caso di adoperarsi in un altro in generale diciamo che se la vita media di una batteria va sui 4 anni se particolarmente buona 8 se invece molto più ristretta anche 2 quindi dipende tutto dalla dimensione della batteria rispetto al motore su cui deve andare la centralina che c'è sotto se noi abbiamo una batteria che può essere una 500 watt e gli mettiamo un motore 500 watt questa batteria è molto probabile che si andrà a rovinare prima se noi abbiamo una batteria 2000 watt e gli andiamo a mettere un motore 500 watt è molto probabile che questa batteria possa durare di più nel tempo quindi tutto sta a un rapporto di quanto è grossa la batteria rispetto a quanto è grosso il motore su cui deve andare non solo se io ho una batteria da 20 ampere ora e la volessi scomporre in una batteria da 15 ampere ora più una da 5 ampere ora non è detto che si comportino nella stessa medesima maniera non si può prendere quella che ho scomposto da 5 perché tanto qua giù avevo tante pile la scompongo ne faccio una da 15 una da 5 ci risparmio spazio e le capacità le caratteristiche delle batterie sono sempre le stesse no perché cambiano perché la curva di scarico cambia magari una sola pila non si comporta più in quella maniera tre pile insieme si comportano in un'altra maniera proprio perché bisogna andare a vedere in quale categoria mi va ad assorbire quella pila insomma qua giù si entra un pochettino più nel complicato se volete saperne di più al riguardo vi invito ovviamente a visitare scuolariciclo.it dove potrete apprendere tutte le competenze che vi mancano anche perché poi dovremmo entrare nello specifico e vedere se il BMS è un common port ovvero con la stessa porta per la ricarica e per la scarica o se invece ha due porte separate una per la ricarica e una per la scarica poi se è un BMS dotato di comunicazione o con altri parametri insomma si entra ancora di più nel complicato ed è un pochettino troppo per parlarne ora ma in maniera molto grezza diciamo che c'è un componente elettrico che in tutti i nostri casi ci aiuta tantissimo il diodo esatto c'è un componente che serve per fare andare la corrente soltanto in una direzione e non nell'altra per cui nel dubbio che noi abbiamo problemi con queste batterie a collegarli a tutto questo componente elettronico qua giù ci potrebbe sicuramente salvare in molte situazioni funziona anche in maniera indiretta da fusibile per cui se li passa troppo a corrente scoppia quindi dobbiamo stare attenti come lo vogliamo andare a utilizzare però potrebbe essere molto comodo per andare a collegare due batterie in parallelo il nostro negativo con negativo il nostro positivo con positivo andare a mettere magari un diodo così che la batteria non vada a ricaricare quest'altra batteria ma che invece esca insieme in questa maniera non otterrei un bilanciamento delle ricariche è vero ma otterrei che la carica della batteria andrà soltanto nella direzione della centralina e del motore per cui valuterei l'utilizzo di questo componente nel dubbio che non sappiamo come fare poi in realtà molte di queste batterie come vediamo questo ce l'ha qua giù ce l'ha già integrato un diodo per cui in realtà magari lo stiamo andando a mettere inutilmente e ogni diodo abbassa leggermente il voltaggio per cui ci sono anche contro ecco quindi bisogna sapere quando andare ad operare questo componente elettronico in generale come vi dicevo si possono andare a collegare andando a mettere quello ma se noi quello che vogliamo ottenere è che il freno motore il freno rigenerativo che quindi mi ritorna indietro la corrente beh in quel caso lì il diodo è meglio non montarlo anzi meglio proprio togliere tutto quanto ma bisogna stare attenti a non fare esplodere queste batterie quindi che questi circuiti che si vanno a chiudere sia comunque sia indirizzati tutti in una stessa maniera e non che si vadano a dare noia perché altrimenti si chiudono dei circuiti un po' bastardi che non si dovrebbero chiudere e magari una batteria va a ricaricare l'altra che però a sua volta aveva delle pile già cariche e poi esplode tutto completiamo quindi tutto dicendo che è vero in effetti che le batterie hanno dei cicli di ricarica quindi possono andare a cicli di ricarica dipende dalla componente di cui sono fatti tuttavia bisogna sapere tutte quelle conoscenze che abbiamo trattato finora per capire la differenza di un ciclo di ricarica e di un altro effettivamente se la batteria la stessa pila si è comportata è stata sottoposta a una determinata corrente e quindi ha fatto una determinata curva di scarico si comporterà diversamente rispetto a una pila che invece ne ha fatto un'altra e non si può nemmeno dire che la somma di quello più quello uguale è quel ciclo di ricarica ma che più o meno una media sarà quel comportamento e infatti la maggior parte di queste batterie possono durare fino a tot cicli di ricarica perché sono state testate fino a tot cicli di ricarica poi c'è sempre la fortuna di farle durare più la sfortuna che poi ti durano di meno soprattutto perché tutti si mettono a fare le batterie ma in pochissimi sanno tutte queste cose sulla batteria oppure ci sono anche altri motivi bene io vi ringrazio di avermi seguito fin qua spero che questo video vi sia tornato utile se avete ancora dubbi o domande vi invito davvero a visitare scuolariciclo.it in alternativa cercate online qualcosa di più prima di comprarvi una di quelle batterie che in mille mi state contattando che avete comprato online su Aliexpress da 20.000 mAh e poi sono piccine così ci sono delle batterie tipo quelle al nickel piccine così che ovviamente non possono assolutamente essere e soprattutto anche quando comprate una batteria su Amazon o su altri siti andate a guardare qual è la potenza di scarico a cui è stata testata molto spesso nei parametri c'è scritto ad esempio c'è scritto batteria da 15 Ah per ora però testata a soli 2 Ah di scarica per cui ci potete accendere una lampadina batterie da 2000 wattori ma testata a 50 watt quindi se voi avete un motore che è 750 watt non è detto che quella batteria si comporterà nella stessa maniera se volete approfondire ancora l'argomento vi invito a approfondire perché veramente è molto pericoloso ora ho cercato di prendere tutto il video ruzzando e scherzando il più possibile in realtà è molto molto pericoloso tutte le batterie sono uguali per alcune caratteristiche ma tutte le batterie sono diverse per altre caratteristiche per cui non bisogna fare un bel mischione si può fare un mischione perché si possono unire batterie al litio con batterie al piombo si può alzare i voltaggi si può abbassare i voltaggi si può fare tutto per questo mi chiamo riciclo per questo il canale youtube si chiama riciclo proprio perché si può utilizzare la batteria di una sigaretta elettronica per ricaricarsi da un pannello fotovoltaico e alimentare una bicicletta si può fare tuttavia bisogna sapere quello con cui stiamo lavorando bene io vi saluto finora molto buongiorno cazzo questo molto buongiorno è venuto proprio di merda eh vada molto buongiorno